Benvenuti ai sesti dialoghi mediterranei di Roma promossi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Ringrazio l'Ambasciatore Massolo, il Dottor Magri e con loro tutta la squadra di ISPI che assieme al Ministero degli Affari Esteri ha curato in circostanze che non ci saremmo aspettati questa edizione di MED in un formato tutto virtuale. In soli cinque anni Roma è tornata al centro della riflessione sui temi del Mediterraneo. I MED Dialogues sono divenuti il principale foro di dialogo internazionale sul Mediterraneo. Un risultato che ci incoraggia e ci sprona a migliorare anno dopo anno. Per agevolare il dibattito abbiamo confermato la suddivisione dei dialoghi in quattro pilastri tematici. Prosperità condivisa, migrazioni, sicurezza condivisa, cultura e società civile. In ciascuno di questi ambiti, tutti decisivi per il futuro della Regione, a questioni da tempo insolute e storici fattori di criticità si sono improvvisamente sovrapposte, aggravandoli le urgenti ripercussioni dirette e indirette del contagio. Ne emerge un quadro di preoccupante fragilità per gli equilibri politici, economici e sociali dell'intera area del Mediterraneo allargato. Lo scenario regionale da sempre complesso esprime oggi un elevato tasso di polarizzazione. Essa è il prodotto dell'interazione tra crisi di lungo periodo, alimentate anche dalla cronica frammentazione interna e l'evoluzione nella competizione geopolitica ideologica, che a dicotomie più tradizionali unisce rinnovate spinte concorrenziali per la sovranità su porzioni di mare e sulle loro risorse, specie quelle energetiche. Di questa etereogenea miscela di instabilità sono visibili tracce evidenti in ciascuno degli attuali scenari di crisi con cui ci confrontiamo nella Regione.